È stato un mercoledì sera drammatico quello che si è consumato nelle strade dell'Agrigentino. Nella fattispecie due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto la scorsa sera in via dei fiumi all'ingresso del villaggio Mosè ad Agrigento. Lo scontro frontale, per causa ancora da verificare, sarebbe avvenuto fra tre auto, una BMW, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Le vittime sono Salvatore Lentini, Agrigentino, di 54 anni, e Caloggera Paino, di 74. Salvatore Lentini era la guida della BMW. Caloggera Paino, invece, era sulla Mercedes, guidata da un 73enne, rimasto gravemente ferito. L'uomo, infatti, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il quadro clinico viene ritenuto dai medici molto delicato. L'altra persona, invece, rimasta ferita in modo lieve, è una donna di 51 anni, che era la guida della Volkswagen Lupo. Per la 51enne è stato necessario il trasferimento con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Agrigentino. Sul luogo, intanto, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Agrigento.